Non è una settimana importante, lo è molto di più per il futuro della Fidelis. È la settimana, quella che comincia oggi, decisiva giocoforza per le sorti del club andriese. Quella appena andata in archivio invece si è conclusa con la lettera aperta del presidente Paolo Montemurro, in cui oltre a scusarsi con la tifoseria per il mancato pagamento degli stipendi di aprile e maggio, che comporterà una penalizzazione in classifica per il prossimo campionato di Serie C, ha definito vitale per la Fidelis Andrea che altri imprenditori manifestino la volontà di supportare il progetto in questi giorni e si è impegnato al tempo stesso a fare un passo indietro se ce ne fosse bisogno, mettendo a disposizione le sue quote societarie a chiunque creda nel progetto andriese. Settimana fondamentale, dicevamo, e così perché anche se la domanda di iscrizione è stata presentata sabato scorso, venerdì prossimo è l'ultimo giorno utile per la ricapitalizzazione e la ridefinizione della compagine societaria. Questa mattina attraverso un comunicato ufficiale intanto è arrivata anche la presa di posizione della curva nord-biancazzurra che, come si legge nella nota, seguirà con coinvolgimento e massima attenzione i prossimi sviluppi della situazione societaria e auspica di poter contare su una compagine composta da gente competente ed onesta. C'è una certezza a Biceglie e riguarda la mancata conferma di Gianfranco Mancini al timone della società nerazzurra che parteciperà per la seconda stagione consecutiva al campionato di Serie C. Diversi i profili sono dati come nuovo allenatore. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Agenore Maurizzi, ex regina, ma l'ipotesi è stata smentita dalla dirigenza bicegliese. L'ex preparatore dei portieri Nerazzurro Giuseppe Alberga si è trasferito invece alla matricola Potenza. Molto attivo sul mercato intanto il neo-DS dei Lucani, praticamente definiti da parte di Vincenzo De Santis gli accordi con due ormai giocatori ex Fidelis, Piccini e Matera, con quest'ultimo svincolato da due giorni e fatta pure per gli arrivi di Matera, Murolo, Genchi, Dettori, Fanelli e De Giorgi. Attiva anche la Virtus Francavilla, preso in prestito dall'Atalanta il giovane portiere Alessandro Turrin. Molto vicino tra i pali anche Stefano Tarolli del Foggia. Per l'attacco invece sembra corsa a due tra Stefano Padovan ed Emiro Pozzebon.